signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale due settimane fa sul video su come presentare il mondo ho accennato al fatto che non necessariamente dovete essere voi come master a creare il mondo di gioco o almeno non dovete essere voi esclusivamente a farlo questo in realtà è un aspetto abbastanza scontato ma che molto spesso i master principianti non faticano a rendersi conto che effettivamente può essere anche così ovviamente il fatto che non dobbiate essere voi a preparare ogni dettaglio del mondo non vuol dire che potete semplicemente andare dai vostri giocatori e dirgli preparatemi un mondo e poi lavare le mani ci sono anche in questo caso delle tecniche e dei metodi che possono essere implementati utilizzati a seconda dei casi a seconda di che tipo di creazione collaborativa dovete mettere al tavolo questa settimana andremo proprio a vedere alcune di queste tecniche quali sono i vantaggi quali sono gli svantaggi nell'usare una al posto di un'altra e perché potrebbe essere anche un vantaggio demandare tutto o una parte della costruzione del mondo ai vostri giocatori cominciamo dicendo in generale che costruire il mondo collettivamente assieme ai propri giocatori e qualcosa che già di per sé potrebbe essere positivo abbiamo già parlato in un video precedente di come il master può semplificare il proprio lavoro collaborando con altri se ve lo siete perso ve lo lascio qua su in descrizione quello che abbiamo detto in quel video vale anche in questo caso avere più persone che lavorano assieme vuol dire portare più competenze al tavolo e anche diminuire il carico di lavoro per il singolo partecipante del gruppo al di là di questo portare nello specifico i vostri giocatori nella creazione dell'ambientazione può aumentare notevolmente l'intrattenimento della quest stessa perché le varie situazioni che poi appaieranno in quest saranno magari state ideate inizialmente da uno dei giocatori o dalla discussione tra i giocatori e quindi quando le verranno rese vive dalle descrizioni del master si sentiranno personalmente più coinvolti quella non sarà più la piazza del paesino dove vivono gli avventurieri quella sarà la piazza dello specifico paese che i giocatori hanno inventato loro con i png che hanno deciso loro che c'erano lì dentro e quindi lo sentiranno come se fosse una cosa loro quasi come se fosse un'estensione dei loro stessi personaggi tenete anche conto che un mondo di gioco soprattutto se un mondo di gioco vasto e complesso perché progettato per una quest che dovrebbe durare degli anni è molto difficile da presentare tutto assieme ai giocatori senza che la cosa degeneri in un lungo spiegone o che porti via una quantità di tempo tale da non essere più giustificata all'interno dei tempi di gioco non potete fare una sessione di quattro ore e tre ore di questa sessione e voi che spiegate cosa ai giocatori perderebbe di senso proprio l'attività ludica senza contare che una spiegazione di tre ore non rimarrà impressa nelle menti dei giocatori e quindi metà di quello che direte il giorno dopo se lo saranno già dimenticato e per la sessione successiva non si ricorderanno probabilmente nulla perché dopo un po la mente tende a divagare se invece la creazione del mondo è partita direttamente da una discussione al tavolo è molto più facile ricordarsi i dettagli proprio perché avendo discusso di questi dettagli da una parte saranno stati ripetuti più volte e dall'altra parte ci saranno anche diciamo dei ricordi piacevoli associati alla lavorazione del mondo che renderanno proprio più facile richiamare alla mente quei ricordi se ti sei divertito mentre fai qualcosa è più facile che te la ricordi non è indiscriminatamente qualcosa di positivo perché diciamo che il principale grosso svantaggio della creazione collaborativa è la perdita del senso di meraviglia per il mondo da parte dei giocatori non saranno più sorpresi o sbalorditi dai luoghi che andranno a visitare per il semplice fatto che quei luoghi o quei concetti loro sanno già che sono lì saranno magari i loro personaggi essere sbalorditi ma non saranno emozioni che provano i giocatori di per loro quindi non necessariamente la creazione collaborativa con i giocatori può essere utilizzata indiscriminatamente senza perdere nulla comunque diciamo che andiamo a vedere nel dettaglio alcuni metodi per vedere a seconda della situazione cosa si può e cosa non si può utilizzare probabilmente il metodo più facile e diffuso è quello di chiedere ai giocatori assieme alla presentazione della retroscena del proprio personaggio di presentare anche la zona geografica cui proviene l'organizzazione di cui è membro o comunque altri elementi di world building strettamente legati a quel pg in particolare il giocatore del barbaro che viene dalle montagne del nord non porterà solo il background del suo barbaro ma anche una descrizione della geografia delle montagne del nord e della società dei barbari del nord e di come sopravvivono in un ambiente così ostile il ladro della gilda dei ladri presenterà anche un organigramma della gilda e quali sono i personaggi importanti all'interno di quella gilda come è organizzata cosa fanno dove si trovano questo metodo è molto utilizzato perché ha due vantaggi notevoli il primo è quello di rendere molto facile garantire la coerenza dei personaggi all'interno del mondo di gioco se il giocatore che gioca il barbaro del nord è lo stesso che ha inventato i barbari del nord il suo personaggio rappresenterà uno standard o comunque sarà quello che conosce meglio i barbari del nord e quindi sa dire cosa è accettabile cosa non è accettabile per un personaggio di quel tipo e l'altro grande vantaggio è quello che taglia moltissimo i tempi di descrizione del master ogni giocatore ha personalmente inventato molte delle informazioni che il suo personaggio ha senso che sappia quando si arriverà nella città della gilda dei ladri e bisognerà descrivere e introdurre in gioco la gilda dei ladri non sarà la voce narrante del master a farlo ma sarà il personaggio giocante del ladro che spiegherà ai suoi compagni personaggi come funzionano le cose nella sua gilda non ci sarà più bisogno di una descrizione a parte per il master e tutti gli elementi di informazione avverranno direttamente all'interno della storia tra l'altro è anche in questo caso perfettamente normale che il ladro la gilda dei ladri ne sappia molto di più rispetto agli altri su come funziona la gilda dei ladri questo tipo di creazione condivisa del mondo vi torna molto utile principalmente in quei casi in cui l'ambientazione deve essere molto vasta molto etereogenea ma non è strettamente legata alla linea narrativa principale i personaggi sono un gruppo di esplorazioni spaziali che girano per vari pianeti inseguendo dei pirati quali siano singolarmente i pianeti è utile per mantenere la coerenza di narrazione per aumentare il mondo immaginario ma per quanto riguarda lo scopo della quest a voi basta sapere che c'è un pianeta su questo pianeta c'è il covo dei pirati tutto quello che c'è attorno serve per l'immedesimazione dei personaggi ma non per mandare avanti la quest potenzialmente poi vi può anche tornare utile per campagne in cui effettivamente il mondo di gioco è molto più rilevante ma che sapete si estenderanno per molto tempo e quindi avranno bisogno di molte informazioni e far lavorare il party insieme a voi vi può tornare utile per diminuire il vostro carico di lavoro ma che inizialmente si svolgeranno in una parte del mondo diciamo neutrale comunque una parte che voi avete preparato in modo che voi avete il tempo mentre i giocatori giocano la prima parte di studiarvi voi le informazioni che i vostri giocatori vi hanno dato e ideare delle quest specifiche per inserirle in quel tipo di luogo geografico organizzazione sistema magico quello che è che il giocatore ha proposto in ultimo può anche servire quando quello che state progettando in realtà è una campagna incredibilmente breve o una singola one shot in cui in realtà non c'è alcun bisogno di un'esplorazione di nessun tipo e il world building può essere tenuto al minimo ma queste proposte potrebbero essere utili per integrare alcuni dettagli nel mondo i personaggi devono indagare su un delitto avvenuto al mercato al mercato arrivano mercanti di tutto il mondo e alcuni di questi mercanti verranno descritti come appartenenti alla razza o all'azione proposta da uno degli specifici personaggi per dare l'impressione che ci sia un mondo estremamente vasto intorno a loro cosa che in realtà non c'è sono semplicemente delle cose aggiunte per fare colore far creare ai giocatori stessi miti e leggende del loro mondo è un metodo molto vecchio risale agli albori del gioco di ruolo quando le campagne sandbox erano preponderanti sulle altre ed è un modo molto affascinante per creare un mondo soprattutto quando l'esplorazione del mondo è qualcosa di preponderante per quanto riguarda la linea narrativa principale esistono vari metodi per implementarlo da quelli house rule a quelli usciti ufficialmente come parte del regolamento di qualche manuale ma nella sua forma più concettuale ogni giocatore scrive una serie di fatti, luoghi, circostanze o personaggi che sono stati raccontati al suo personaggio o ai personaggi in generale ma che non si sa effettivamente se sono veri o meno appunto si tratta di miti e leggende dicono che nella valle al di là delle montagne viva un drago rosso dicono che quel remoto pianeta sia infestato da alieni cannibali ora tutti i giocatori scrivono una lista di cose tutte queste cose vengono messe tutte assieme e poi il master segretamente seleziona casualmente quali di queste voci sono effettivamente vere e quali invece sono effettivamente solo delle leggende in alcune versioni c'è anche la possibilità che alcune delle voci siano parzialmente vere ma non del tutto che alcune voci si combinino tra di loro come dicevo ci sono varie implementazioni ma il succo e il discorso rimane questo questo come ho detto all'inizio è un metodo molto efficace quando si presuppone che i personaggi debbano esplorare o comunque debbano andare in dei luoghi sconosciuti appunto perché da parte del giocatore dovrebbe esserci la sorpresa di quello che vanno a trovare ma se l'ambientazione è stata costruita collettivamente per il giocatore non ci sarebbe più nulla di sorprendente perché le cose le saprebbe già in questo modo i giocatori possono comunque contribuire in maniera attiva al war building ma il loro sense of wonder non ne viene inficiato perché comunque non sapranno se effettivamente la loro proposta è vera o non è vera potranno discutere tra i loro perché tecnicamente queste sono leggende che i loro personaggi conoscono quindi ha anche senso che i personaggi parlino tra i loro di queste leggende e comunque non necessariamente l'idea proposta dal giocatore verrà messa in gioco esattamente come l'aveva pensata lui quindi anche nel caso rimane comunque un minimo di sorpresa per i partecipanti al tavolo ovviamente nulla impedisce ai giocatori di collaborare nella maniera totale alla creazione del mondo e a gestire insieme tutti gli aspetti del war building questo in realtà è il metodo più complesso che fondamentalmente richiede che voi creiate una sessione zero estremamente lunga e estesa in cui vi riunirete ovviamente molto più di una volta vi servirà cominciate a creare un gruppo telegram mettetela così e nel corso delle varie settimane ognuno lascerà le proprie proposte fin quando non avrete abbastanza materiale per creare un intero mondo in questo caso il vostro ruolo come master al di là di essere uno di quelli che propone le idee si limiterà a essere quello di supervisione del progetto e moderatore tra le varie proposte questo ha il vantaggio che vabbè al di là del fatto che in più siete a lavorarci come ho detto prima meno possibilità meno lavoro c'è per il singolo può essere molto importante se state effettivamente progettando un intero mondo di gioco con dozzine e dozzine di aspetti civiltà fazioni nazioni e quello che è tra l'altro questo potrebbe tornare utile anche per portare competenze specifiche all'interno del world building voi come master magari siete molto bravi sulla teoria narrativa in quanto master però se tra i vostri giocatori c'è uno che fa l'impiegato in banca molto probabilmente è molto più qualificato di voi a creare un'economia coerente per il mondo e quello che lavora nell'edilizia ne saprà molto più di voi su come effettivamente si costruiscono i palazzi ovviamente questo è proprio il caso in cui lo svantaggio ovvio è quello che la sorpresa per quanto riguarda l'ambientazione sarà rovinata per tutti se la vostra quest prevede che tutti i colpi di scena comunque in momenti concitati non riguardino di per sé l'esplorazione o comunque non riguardino la scoperta del mondo ma riguardino semplicemente delle storie al suo interno questo non è un problema ma come detto all'inizio del video il sense of wonder va fuori dalla finestra tutti i giocatori sanno tutto quindi non ci sarà mai la possibilità di sorprenderli da questo punto di vista e anzi se cambiate le cose per sorprenderli andrete poi contro quello che avete dichiarato inizialmente cioè che il mondo si crea tutti assieme e non sarebbe un comportamento corretto questo però può inaspettatamente diventare un vantaggio se voi utilizzate fondamentalmente il master rotante o il master volante come volete chiamarlo cioè se nel vostro gruppo non c'è un master ma tutti i giocatori o comunque alcuni dei giocatori a turno masterano una parte della storia se tutti avete le conoscenze sul mondo allo stesso livello perché lo avete creato tutto assieme e prima di tutto tutti i master partono da un punto di equilibrio in cui tutti ne sanno lo stesso in più diventa anche molto più facile per il master che subentra per secondo per terzo e via avanti nel ciclo rendere le storie coerenti perché dopo tutto lavorate tutti sulle stesse informazioni di base quindi difficilmente un master può inventarsi qualcosa che poi vada a rovinare il lavoro del master che viene dopo perché tutto quello che doveva essere creato è già stato creato diciamo che il video per oggi finisce qui quindi questi ovviamente sono solamente tre metodi che sono stati scelti perché sono diversi tra di loro e influenzano diversamente la collaborazione ce ne sono ovviamente molti altri ma a questo punto la parola passa a voi voi utilizzate metodi di creazione collaborativa? se sì, squali, scriveteli nei commenti scrivete anche eventuali domande, dubbi, perplessità come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condivideteli perché vi aiuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo nel prossimo video